Viso splendente e senza punti neri? È possibile grazie alle maschere con albume. L'uovo è da sempre utilizzato come ingrediente base per i trattamenti di bellezza di viso e capelli. L'albume, in particolare, ha delle speciali proprietà rigeneranti e purificanti per la pelle. Se volete preparare delle maschere con albume per un rituale di bellezza fai-da-te, il limone e lo zucchero sono due ottimi alleati dell'albume. Ecco alcune idee e rimedi veloci e fai-da-te per preparare in casa delle maschere di bellezza per il viso a base, di albume e altri prodotti naturali. Per eliminare e ridurre i punti neri, provate una maschera viso albume e farina. Per prepararla vi serviranno un albume d'uovo e un cucchiaio di farina. Mescolate i due ingredienti, applicate sul viso e lasciate agire per circa 15 minuti prima di risciacquare. Per nutrire e rigenerare la pelle del viso, provate una maschera viso fai-da-te con albume e limone. Montate gli albumi a neve e unite infine il succo di mezzo limone. Massaggiate il composto ottenuto su viso e collo e lasciate in posa per massimo 20 minuti. Ottima per eliminare i punti neri è la maschera viso con albume e zucchero. Mescolate un cucchiaio di farina d'avena con un cucchiaio di miele e un albume. Mescolate per bene gli ingredienti fino a quando otterrete un composto omogeneo. Questo rimedio fai-da-te è ottimo per eliminare brufoletti e punti neri, ma deve essere applicato solo sulla zona interessata e non sul resto del viso. In caso di pelle spenta e secca, provate la maschera con albume e miele. Utilizzate un albume che monterete leggermente a neve. Unite un cucchiaino di miele e mescolate per bene. Potete applicare il composto direttamente su viso e corpo. Per le pelli meno sensibili potete aggiungere qualche goccia di limone per potenziarne l'efficacia purificante.